Onorevole Isabetta Lancellotta, protagonista ad Atreiu nel convegno sullo sport, che cosa è scaturito? Lo sport è sempre stato al centro dell'agenda politica di Fratelli d'Italia, inserito nelle linee programmatiche delle politiche del 2022 e lo abbiamo dimostrato in maniera sostanziale anche all'interno del DL Caivano, dove sono stati stanziati 9 milioni di euro per riqualificare il centro sportivo Delfinia. Saranno presenti 41 discipline sportive, una pista ciclabile che collegherà Caivano al centro sportivo Delfinia proprio perché noi abbiamo puntato su una generazione umana più che urbana, perché lo sport rappresenta proprio questo. Lo sport rappresenta inclusione, integrazione e l'elemento educativo importante, una vera e propria agenzia educativa come la famiglia e la scuola. Ed il governo Meloni, Fratelli d'Italia, questo l'ha sempre compreso. C'è stata anche la presenza del ministro Abbodi ad Atreiu, il quale ha sottolineato quanto un abbandono sportivo possa creare un abbandono sociale. Noi questa importantissima proposta che riguarda lo sport la porteremo all'attenzione del nostro territorio proprio grazie anche ad una filiera istituzionale. Il Molise ha necessità di impianti sportivi e verrà data una grande attenzione, proprio nella prossima settimana incontrerò personalmente il ministro Abbodi. Abbiamo un assessore allo sport che è comunque la delega di Fratelli d'Italia, per cui ci sarà data una grandissima attenzione al mondo dello sport perché gli impianti sportivi sono funzionali per poter svolgere la pratica sportiva.